Per l'Italia, per la musica italiana è importantissimo perché entriamo in uno dei più grandi appuntamenti per la promozione dei talenti, dei musicisti. Per Arezzo sarebbe fantastico perché potremmo promuovere la città e essere a contatto con tutti quelli che sono gli operatori della filiera musicale internazionale. Arezzo Wave e il suo festival Sud Wave volano a Parigi. La fondazione è stata infatti invitata a partecipare al Mama Festival & Convention con il progetto Arezzo Wave in Parigi, promosso dal Ministero dei Beni Culturali e dalla CIAE. È fondamentale questo appuntamento perché andremo a Parigi, andremo nei luoghi più importanti della Villumière, saremo il 15 di ottobre all'Istituto Italiano di Cultura e poi nel più grande festival francese alla Machine del Moulin Rouge al Mama di Parigi con quattro gruppi italiani che in qualche modo rappresentano il meglio della nuova musica italiana. Nella capitale francese sbarcheranno così quattro talenti, tutti rigorosamente Under 35, la Municipal, Chiole, la rappresentante di lista e la scapigliatura. Il 15 di ottobre saremo all'Istituto Italiano di Cultura, il Ruvarenne, e il 16 saremo alla Machine del Moulin Rouge con la scapigliatura, la rappresentante di lista, la Municipal e Chiole.